Avocadiprox Advance è un integratore in capsule utile per il controllo del peso e il metabolismo dei grassi. È indicato per favorire la perdita di peso, per aumentare il metabolismo del tessuto adiposo, come supporto in regimi dietetici ipocalorici per supportare il metabolismo basale e la termogenesi. La sua formula contiene un innovativo complesso molecolare adiprof NMS ricco in procianidine, acidi clorogenici, flavonolignani, flavanoli, composti naturali estratti dal tè verde che favorisce la termogenesi, semi d'uva antiossidante che migliora il microcircolo, matè che favorisce la degradazione dei grassi e cardomariano che lavora sui grassi accumulati nel fegato. Come si assume? 3 capsule al giorno al mattino con abbondante acqua. Avvertenze? Va assunto in combinazione ad una dieta ipocalorica adeguata e un'attività fisica regolare. Contiene caffeina non adatto nei bambini in gravidanza e in allattamento.